Consiglio monotematico sulla seconda foce del fiume Sarno, lei ha parlato di opere che stravolgono in un certo senso la città di Torre Annunziata, in che senso, con quali opere e con quali fondi? Le opere che sono state previste vanno dalla copertura del trincerone e dal collegamento della zona alta con il litorale, quindi copertura del trincerone ferroviario, allargamento della villa del Parnaso, rivisitazione dell'attuale villa comunale e creazione di un percorso pedonale che vada fino alla foce del Sarno. Contestualmente c'è l'interesse anche sulla zona dello spolettificio, che dovrà essere oggetto di una linea di finanziamento a parte, che prevederà l'apertura, quindi attraverso l'abbattimento di quei muri, la creazione di spazi a verde e tutta un'altra serie di opere turistico-ricettive. Oltre all'impegno che ha assunto la sovrintendenza di continuare gli scavi, poi passeremo alla zona delle sette scogliere, quindi con la creazione di un vero e proprio lungomare, che dovrà collegarsi con quello di Castanammara di Stambia. Primo lotto andremo a breve all'approvazione del progetto definitivo, penso che entro la settimana prossima in giunta approveremo il progetto, che prevede la riqualificazione attraverso il processo di bonifica dell'area denominata Salera e la creazione di un lungomare con pista ciclabile e passeggiata pedonale. Nel grande progetto Pompei abbiamo inserito tutta una serie di opere strategiche, che noi riteniamo strategiche per il territorio, abbiamo individuato tutta una serie di area di parcheggio, una serie di infrastrutture necessarie, quindi il collegamento del secondo lotto della bretella, che vada da via Terragneta fino al svincolo dell'autostrada, con un leggero tratto in sottopassaggio sotto la linea ferroviaria, che consentirà quindi a chi esce dall'autostrada in pochi minuti di arrivare direttamente al porto e in pochi minuti arrivare anche agli scavi. Proporremo poi eventualmente alla regione Campania di ottenere, riuscire ad ospitare all'interno del nostro porto anche tutta una serie di collegamento con le isole.